Guerre in Ucraina, sitine fiaccolate in tutte le marche per riportare la pace in Europa. La regione convoca una riunione con le associazioni di categoria. Carriera brucia le multe nel camino e chiede le scuse del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Dopo la sentenza in un video accusa il primo cittadino, il DPCM carta straccia ha detto siamo pronti a fare ricorso contro il Green Pass e l'obbligo vaccinale. Edilizia scolastica con il PNRR. Il comune di Fano partecipa al bando con tre progetti da oltre 4 milioni di euro. la palestra per i gentili e due nuovi nidi a bellocchi e nel quartiere del Vallato. All'Expo di Dubai il catamarano green dell'azienda Wider dalla provincia pesarese le soluzioni acustiche per il benessere del suono e l'innovazione nella battaglia contro i virus animali. Le star italiane del Natale siglano l'intesa al via l'accordo di collaborazione tra l'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano con l'unione delle proloquo della provincia di Pesaro Urbino. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito, come in tante città italiane e anche nelle Marche, si sono svolte le iniziative contro l'aggressione militare rossa. I sindacati hanno promosso in collaborazione con associazioni, movimenti e istituzioni le manifestazioni in diverse piazze dei comuni marchigiani. Pesaro, ad esempio, si è mobilitata con una fiaccolata, mentre a Fano si è svolto un sit-in in piazza 20 Settembre. Il partito in comune si è rappellato a tutta la cittadinanza, alle istituzioni locali, alle associazioni, alle forze politiche e sociali per riportare la pace in Europa e condividere l'impegno per fermare la guerra. L'Università per la Pace, invece, ha organizzato un presidio che si terrà domani alle 17 in piazza Cavour ad Ancona insieme a tutti i soggetti che hanno firmato un appello per fermare il conflitto. Un appello rivolto al Presidente del Consiglio Draghi, alla Regione e ai sindaci delle Marche. Per impedire, hanno detto, una nuova tragedia e una insensata carneficina. A Draghi i firmatari chiedono di avviare il percorso parlamentare affinché l'Italia aderisca al Trattato ONU sulla proibizione delle armi nucleari. I sindaci, invece, sono chiamati ad attivare contatti, costituire gemellaggi e ponti di dialogo con i loro colleghi delle città nelle zone in conflitto. L'invasione russa, hanno commentato i sindacati, è un atto ingiustificabile e di una gravità inaudita. E ad esprimere solidarietà verso il popolo ucraino è il Vice Presidente delle Marche, Mirko Carloni, che ha annunciato una riunione con le associazioni di categoria. Per l'economia marchigiana noi siamo molto preoccupati perché una fetta importante della nostra produzione riflette su quei mercati. L'export verso la Russia vale 274 milioni, quello verso l'Ucraina vale 80 milioni di euro e quindi dobbiamo capire come diversificare questo rischio e cercare insieme alle imprese, agli imprenditori e alle associazioni di categoria, vedere cosa la regione Marche può materialmente e concretamente fare per sostenerle e diversificare questo rischio. La prossima settimana ho convocato una riunione in resone con le associazioni di categoria proprio per discutere di eventuali misure da decidere a prendere insieme e comunque per stare a fianco ai nostri imprenditori che rischiano un colpo durissimo dalle eventuali sanzioni che verranno prese su quei mercati. In questo momento tuttavia la nostra prima preoccupazione è quella delle vite umane che vengono minacciate e ci sono già diversi morti tra i civili, tra i soldati, quindi mentre ci occuperemo anche di eventuali soluzioni e di risposte per l'economia, in questo momento il nostro primo pensiero va alle vittime di questa tragedia. Cambiamo argomento dopo la sentenza che ha annullato il DPCM di Giuseppe Conte e le multe elevate nei suoi confronti. Il ristoratore Umberto Carriera si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nel mirino dell'imprenditore. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Umberto, e lo dice sempre la sentenza del Tribunale di Pesaro, ha rispettato la legge. Umberto ha rispettato la legge, mentre invece tu non hai rispettato la legge. Perché multandomi hai sbagliato. Facendomi chiudere hai sbagliato. Il dito è puntato contro il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ha sempre contestato duramente i comportamenti del ristoratore e ribello Umberto Carriera, imprenditore che aveva fatto ricorso per tutte le multe ricevute per le aperture serali, fatte in zona gialla e arancione. Oggi con una diretta social pubblicata sul profilo Facebook del movimento IoApro, Carriera non solo ha ricordato le motivazioni della sentenza che ha dichiarato illegittimo il DPCM di Conte, perché senza nessun fondamento scientifico, ma si è anche rivolto al primo cittadino per chiedere le sue scuse. Adesso che il giudice Fabio Mazzini ha detto che Umberto non era un fuorileggio, non era un criminale, ma i criminali eravate voi del governo Conte, i criminali eravate voi a dare delle ingiuste sanzioni, delle ingiuste chiusure a tutti gli imprenditori di questo paese che hanno sofferto e che soffrono tuttora, perché il Green Pass ha messo in sofferenza tutte le attività del nostro paese. Caro Matteo Ricci, perché non metti un bel post sui tuoi profili Facebook e Instagram e sulle pagine che i tuoi uomini gestiscono qui a Pesaro, dove chi di scusa? Secondo me saresti molto apprezzato. Chi di scusa perché hai puntato il dito contro Umberto sbagliando. Dovresti dirti dispiaciuto, ha proseguito Carriera, per tutte quelle aziende che hanno fallito e per tutte le persone che hanno perso il lavoro, dopodiché il ristoratore ha ribadito che chiederà il risarcimento dei danni subiti per i mesi di stop imposti dal governo, che non aveva motivato le chiusure stabilite alle ore 18 per i ristoranti, consentendo invece l'apertura nello stesso periodo sia delle aree di servizio dove c'era la possibilità di sedersi al tavolo, sia dei ristoranti e degli alberghi. Umberto poteva aprire, Umberto doveva aprire, tutti i ristoratori hanno fatto bene ad aprire e il 99% dei ristoratori, dei bar, dei parrucchieri, degli estetisti che sono rimasti chiusi hanno sbagliato, hanno sbagliato, dovevano disobbedire perché il DPCM carta straccia, era carta straccia e fuffa, io questa mattina ho bruciato nel cammino, qui sono in uno dei miei ristoranti, tutte le multe e con tutti i soldi che ho risparmiato probabilmente mi farò una vacanza, adesso vedo come fare. Il ristoratore poi non ha risparmiato critiche per l'operato dell'amministrazione comunale, elencando alcune promesse non mantenute e le importanti occasioni perse. Ben quattro anni fa Matteo Ricci con una grandiosa conferenza stampa disse porterò a Pesaro nel 2023 i giochi del Mediterraneo che sono un gradino sotto le Olimpiadi, quindi Pesaro, caspita, noi contentissimi, Pesaro è una piccola città con 90-100 mila abitanti, hotel, ristoranti, attività recettive avrebbero lavorato a pieno, avrebbero lavorato tantissimo. Qualche mese fa si scopre che i giochi del Mediterraneo invece nel silenzio più assoluto sono arrivati in Grecia, mi pare a Creta. Pesaro candidata anche Capitale della Cultura nel 2024, sicuramente vincerà. Pesaro candidata ad ospitarmi, vien da ridere, l'Eurovision Contest, anche lì bocciata. Insomma, tanti annunci, tanti annunci, tanti annunci. Matteo Ricci, utilizza il tuo profilo Facebook, il tuo profilo Instagram, le interviste, i talk che ti ospitano su Rete4, dove anche lì prendi comunque sempre delle imbarcate incredibili, utilizzali per dire «Caro Umberto Carriera, cari ristoratori di Pesaro, ho sbagliato, il DPCM era una merda». «Io sono pronto a perdonarti», ha concluso Carriera che al termine del video ha annunciato le prossime azioni. Anche perché poi siamo già pronti con il movimento «Io apro» a fare ricorso per il Green Pass, a fare ricorso per l'obbligo vaccinale, a fare ricorso per le sospensioni. Li vinceremo tutti e tutte le multe andranno nel camino. A chiaro, serviranno sei mesi, un anno, un anno e mezzo, ma poi vinceremo e quando vinciamo chiederemo i soldi. Purtroppo non la pagherete mai personalmente voi, non la pagherà mai Matteo Ricci, non la pagherà mai Giuseppe Conte, non la pagherà mai il governo Draghi. Però intanto qualcosa è. Matteo Ricci chiederà scusa a Umberto Carriera? Vediamo, aspettiamo, attendiamo. Passiamo ai tre progetti presentati dal Comune di Fanno che tenta di ottenere i fondi del PNRR dedicati all'edilizia scolastica per realizzare due nidi e una nuova palestra. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Grande sinergia tra i vari uffici del Comune di Fanno al lavoro per cogliere le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che per le Marche mette a disposizione 75 milioni di euro per le nuove edificazioni destinate ad aumentare l'offerta scolastica in particolare i servizi educativi 0-3 anni e circa 20 milioni di euro per le strutture sportive afferenti alle scuole. Questa mattina il sindaco Serie e l'assessore Mascarinna con il supporto del dirigente dei lavori pubblici Federico Fabri e l'architetto Pamela Lisotta hanno presentato i progetti inseriti nel bando che scadrà il prossimo 28 febbraio. Se dovesse andare a buon fine, il primo investimento il Comune lo destinerà alla realizzazione di una nuova palestra adiacente alla Scuola Gentile nella zona del porto. La struttura, di 430 metri quadrati per un importo di oltre 1.105.000 euro sarà dotata di spogliatoi, bagni e di infermeria. In più, avendo anche un accesso esterno oltre al collegamento con la scuola potrà essere utilizzata per scopi extradidattici. Il secondo progetto invece riguarda un asilo nido in via della colonna al Vallato in prossimità del parco urbano L'edificio attuale, che comprende una sola sezione verrebbe demolito, ricostruito e ampliato per un totale di tre sezioni e 45 posti a disposizione. Il costo sarà di quasi 1.690.000 euro per 625 metri quadrati comprenderà la cucina, la lavanderia, il dormitorio, il giardino e ampi spazi interni. Un nuovo nido è previsto anche a Bellocchi nell'area che oggi comprende la scuola elementare Tombari e in futuro anche una scuola media quella dell'infanzia sorgerà in questo quadrato rosso sarà dotata degli stessi servizi predisposti per il nido del Vallato e avrà allo stesso modo tre sezioni e 45 posti in una superficie di 650 metri quadrati per un investimento di 1.727.000 euro tutte le strutture terranno conto di interventi finalizzati a risparmio energetico. Tre proposte che hanno come obiettivo in particolare quello di aumentare la capacità di accoglienza nella nostra città in particolare per i servizi 0-3 anni la nostra è una città che in questi anni ha avuto è vero un calo demografico ma contemporaneamente abbiamo registrato un aumento esponenziale delle richieste di iscrizione nei nostri nidi comunali con questi progetti andiamo ad aumentare potenzialmente di 90 unità rispetto alle 250 attualmente presenti la capacità di accoglienza dei nostri nidi oltre ovviamente a riqualificare complessivamente l'edilizia scolastica dedicata sarebbe una risposta eccezionale per una città che in questi anni ha investito tanto anche in termini di assunzioni proprio sul settore del nido e dell'infanzia ma sarebbe anche una possibilità importante per Fano di poter articolare diversamente sul territorio la propria offerta sui servizi 0-3 Sindaco avete sottolineato più volte questa mattina il grande lavoro di squadra svolto dagli uffici avete costituito proprio una cabina per seguire bandi ma anche lavori in corso Sì, una cabina di grandi progettazioni coordinata dal Sindaco e dal suo staff con il coinvolgimento poi in vari settori con i vari responsabili tecnici e assessori è un lavoro importante perché stiamo seguendo le sei missioni del PNNR per farci trovare preparati questo è stato il primo step su quello che riguarda l'edilizia scolastica e siamo riusciti a partecipare a tutti i bandi con progettazione importante che sono convinto se arriveranno anche al riconoscimento sarà un bel passo in avanti per la nostra città che sarà sempre più moderna e adeguata alle nuove sfide, alle nuove esigenze ma soprattutto in questo caso per le ragazze e i ragazzi che dovranno frequentare queste strutture Marco Lucchetti è il nuovo presidente dell'ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Pesero Urbino fanese di 58 anni consigliere uscente con delega alla formazione e già revisore del Consiglio Nazionale subentra a Paolo Balestreri e guiderà l'ente per i prossimi 4 anni siamo una professione essenziale come ci ha definito il governo durante il lockdown ha commentato Lucchetti nell'attuale periodo ancora molto difficile aggiunto il nuovo presidente lo siamo ancora di più per tutti cittadini, imprese e pubblica amministrazione che si rivolgono a noi per capire la realtà le normative il domani dalla tecnologia alla moda dalla termoidraulica alle imbarcazioni di lusso le imprese marchigiane incantano Dubai con l'arte del saper fare è sicuramente la capacità del saper fare unita alla creatività e all'innovazione di incantare gli acquirenti e i giornalisti internazionali che intervengono ogni giorno agli eventi marchigiani è il commento del vicepresidente e assessore allo sviluppo economico Mirko Carloni da domenica in missione all'Expo di Dubai alla guida della delegazione istituzionale della regione possiamo dire senza ombra di dubbio ha detto Carloni che il brand scelto per rappresentarli Marche Land of Excellence è davvero adatto siamo una terra di eccellenze è il momento di farlo sapere al mondo la mattinata di ieri che si è aperta con la presentazione delle soluzioni acustiche di Floema Group con sede produttiva nella provincia di Pesero Urbino e che nel pomeriggio ha inaugurato proprio a Dubai un nuovo showroom l'azienda ricerca con i suoi prodotti il comfort acustico una specifica condizione psicofisica che attraverso il benessere del suono garantisce una migliore relazione dell'individuo con il luogo e l'attività che sta facendo portavoce di questo approccio il pannello di fono tamburato che assorbe i rumori interni e isola quelli esterni permettendo un benessere acustico necessario per godere di un'esperienza immersiva a questi eventi abbiamo cercato di raccontare quello che facciamo con tanta passione tutti i giorni cercando di prendere e salvare quello che mio nonno ha creato nel passato e di portarlo nel futuro portarlo nel futuro dell'interior design dove il design si deve connettere alla funzione negli scorsi mesi abbiamo spostato la sede a Roma ma la produzione rimane nelle Marche a Sassocorvare un piccolo paese dove più di 50 anni fa l'azienda è stata fondata Roma deve candidarsi a gestire Expo 2030 perché abbiamo tutte le carte in regola per portare la bellezza la sua bellezza in giro per il mondo e raccontarla come sappiamo fare noi italiani e soprattutto dopo il fashion e il food e il turno del furniture l'interior design sarà il futuro e noi dobbiamo come Italia sfruttare questa grande occasione che abbiamo per raccontare le nostre eccellenze nel mondo quindi grazie ancora alla regione Marche per averci supportato per averci fatto raccontare questa bellissima storia soddisfatta anche Stefania Mariani amministratore delegato di Diateva SRL che ha presentato l'azienda con sede a Fano specializzata in ricerca, sviluppo e produzione di soluzioni innovative nella battaglia contro i virus animali si occupa di biotecnologie sono molto contenta e ringrazio la regione Marche per avermi invitato qua oggi in questo importante evento Parallel Pandemics per discutere quelle che sono le innovazioni in campo biotecnologico per la detection dei virus che soprattutto in questo momento coinvolgono come la peste suina il mondo animale fare early detection è importantissimo per uno dei goal di questo Expo il goal che riguarda il mantenimento della nostra salute Ha debutato sul palcoscenico di Expo Dubai anche il nuovo catamarano WiderCat 92 un capolavoro made in Marche disegnato dalla matita di Luca Dini è lungo 28 metri e largo 12 il sistema propulsivo garantisce una velocità di navigazione fino a 15 nodi mentre l'energia prodotta da 170 pannelli solari a bordo viene immagazzinata nella batteria e usata nelle ore notturne sotto coperta due cabine VIP con accesso diretto al Beach Club con due piattaforme apribili l'imbarcazione di lusso entrerà a far parte della produzione in semiserie della Wider all'insegna del design della sostenibilità e della tecnologia diverse associazioni ambientaliste hanno organizzato per domani alle ore 16 un sitino in piazza Marco Ligna Fano per salvare i lecci presenti da oltre 70 anni siamo favorevoli si legge in una nota a progettare nuovi spazi ma non possiamo permettere che il miglioramento della città preveda l'abbattimento di alberi tutelati anche da una legge regionale la perizia commissionata dall'associazione la Lupus in Fabula al dottore forestale Riccardo Frontini attesta che le alberature indagate non versano in condizioni critiche chiediamo a gran voce che questi progetti vengano rivisti conclude la nota perché eliminare i lecci in piazza Marcolini significa causare un danno ambientale economico e sociale ci spostiamo ad Ancona perché questa mattina nella sede della regione Marche è stato siglato l'accordo di collaborazione tra l'agenzia di soggiorno e turismo di Bolzano e l'unione delle proloco della provincia di Pesaro e Rubino l'obiettivo è lo sviluppo del turismo e la valorizzazione dei territori durante le iniziative legate al Natale servizio di Filippo Pucci conferenza stampa questa mattina all'interno della regione Marche per dare il via all'accordo di collaborazione tra l'azienda di soggiorno turismo di Bolzano e l'unione proloco di Pesaro e Rubino filo conduttore i mercatini di Natale che in entrambe le località sono diventati punto di riferimento durante le festività sia per mettere in mostra i prodotti locali ma anche valorizzare i borghi sia a livello nazionale che internazionale una giornata da ricordare ha detto entusiasta il presidente provinciale dell'UMPLI Damiano Bartocetti abbiamo gettato le basi per un progetto di larga scala che prevede la collaborazione tra i due enti di scambio di prodotti tipici locali e di attrazioni turistiche e soprattutto stiamo puntando per un progetto nazionale con il treno con Ferrovia dello Stato e qui io oggi dietro di me le scritte della regione Marche che stanno proprio a testimoniare il lavoro che la regione Marche sta svolgendo nei nostri confronti e soprattutto un forte ringraziamento al presidente Francesco Acquaroli e all'assessore Francesco Baldelli a tutta la giunta al consiglio e a tutti i dipendenti che collaborano su questo progetto che sta diventando veramente di una portata nazionale un'iniziativa nata a Monbaroccio molti anni fa grazie al presidente Bartocetti e che oggi si ufficializza ha sottolineato Roland Buratti presidente dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano siamo felici di portare un pezzetto della nostra Bolzano nelle Marche e di poter contribuire alla realizzazione di un ponte culturale fra le due realtà questa rete che avete fatto di queste proloquo delle province di Peso Rubino è veramente qualcosa di eccezionale e oggi con questo accordo che accomuna proprio le nostre due realtà per la volontà della valorizzazione del territorio e dell'amore per il proprio territorio vi aspettiamo tutti al mercatino di Bolzano con questo nuovo treno anche ma con quello che desiderate tra le novità in vista per la prossima edizione il Christmas Rail ovvero un treno che collegherà nel periodo natalizio Bolzano ai borghi del Natale che non ti aspetti e anche viceversa non le vogliamo unire anche da un punto di vista infrastrutturale di comunicazione fisica stiamo organizzando ormai da tempo il Christmas Rail che sarà il mezzo con cui faremo dialogare l'Alto Adige e le Dolomiti con le nostre stupende spiagge con il nostro stupendo introterra e con le nostre montagne per un progetto che è nazionale e come tale verrà trattato dall'Alto Adige e dalla regione Marche Vi ricordo che lunedì sera primo cittadino ci sarà il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni io vi auguro un buon fine settimana ma domani alle 7 Massimo Foghetti terrà la rassegna stampa buona serata a tutti arrivederci Grazie a tutti Grazie.